e salve a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo come fare un overclock alla scheda video praticamente piccola premessa non è una cosa diciamo sembrerebbe una cosa semplice ma in realtà non lo è perché se non si sa esattamente quello che si sta facendo si rischia di fare danni quindi dovete seguirmi passo per passo attentamente se avete una scheda video di marca asus o comunque che sia md oppure nvidia basta che sia asus vi consiglio di scaricare questo programma che sto utilizzando io oppure se avete un'altra marca vi consiglio un altro programma sempre metterò il link in descrizione che dovete scaricare appunto comunque se avete una scheda video come la mia asus potete utilizzare benissimo questo che è un perfetto come programma è anche una cosa importante perché diciamo garantisce una buona stabilità e diciamo è fatto apposto appunto per schede video di questo tipo comunque se non avete un asus appunto vi consiglio un altro programma troverete in descrizione come ho già detto è perfetto un po per tutte diciamo le marche allora vediamo subito intanto direi di attivare questo monitor praticamente sarà diciamo una cosa abbastanza importante perché appunto dovremo monitorare ogni cosa della scheda video quindi vediamo se si attivano e ok a questo punto possiamo vedere tutti i valori diciamo della scheda video tra quelli di base e anche del voltaggio che collina quello più rischioso diciamo vabbè anche la velocità della venta o dell'evento e nient'altro comunque allora passiamo subito adesso io non posso fare l'overclock così in diretta perché ovviamente sto registrando e per fare l'overclock bisogna chiudere tutti gli altri programmi inutili che diciamo utilizzano la scheda video perché attualmente i programmi di registrazione utilizzano una parte della scheda video quindi non converrebbe proprio eseguire dei test e altro registrando da questa schermata notiamo subito il 105 per cento che diciamo è la velocità attuale della gpu l'ho trovata così di fabbrica perché è una versione overclockata proprio di fabbrica quindi ma vabbè non c'entra niente questo indicherà la percentuale comunque del miglioramento di performance che andremo a ottenere partendo da 100 ovviamente questo è un altro valore molto importante che sarebbe la temperatura normalmente se non state facendo niente dovrebbe essere anche meno di 40 perché adesso sto registrando quindi ovviamente sta utilizzando un potenza diciamo e questa per ora non ci interessa che ma comunque sarebbe la ram video che sta utilizzando a questo punto vediamo subito il doom dove dobbiamo dimenticarsi questa parte andare sulla modalità professionale che tanto professionale non è perché non è ancora sbloccato questa modalità il primo dato qui è detto semplicemente la velocità del processore della scheda video aumentando questo aumenta la performance ovviamente questo è il voltaggio che vi consiglio di non toccare assolutamente per ora questo invece della memoria che sinceramente non conviene tanto aumentare magari di 100 o 200 dopo non si notano più miglioramenti quindi non serve a niente questo lasciate stare a meno che non siete esperti e volete fare un vostro settaggio per settare l'evento dopo l'evento appunto ma vi consiglio di tenere automatico almeno per ora questo lasciate stare a questo punto dovete iniziare a aumentare questo direi di iniziare aumentare se non avete già aver collocato ovviamente anche di 10 o 20 così questo mettete anche un punto ogni tanto su questo ma più di aumentare arriverete circa 200 dopo noterete più miglioramenti quindi anche già 100 in più non ha senso secondo me una volta aumentato di 20 bisogna andare qui in basso e fare app li ovviamente e salvarlo se necessario vi fate vi create un vostro profilo salvate adesso ovviamente io non lo applico perché non posso ovviamente fare i test così registrando comunque a questo punto dovete utilizzare un programma di benchmark tipo questo oppure questo vi consiglio questi due perché sono più usati e funzionano sono sicuro e ho testati anche vi consiglio questo questo di qua perché è più bello da vedere ma non è importante sotto questo aspetto non è che sia importante diciamo ma comunque quando dovrete eseguirlo vi consiglio di trovare un settaggio magari dettagli alti tranquillamente così e lo fate andare una volta dovete ovviamente una volta finito dovete confrontare il risultato con quello precedente con la scheda video non è collocata quindi dovete ovviamente farne uno prima di aver collocato fare un test dopo vedere il miglioramento se c'è se c'è il miglioramento il programma non è crashato o non ha dato errori anche visivi ci possono essere dei texture che magari non so di vi metterò anche qualche immagine comunque per saper come riconoscere un errore grafico comunque a questo punto avete fatto il test tutto completato tranquillamente e avete notato anche un miglioramento leggero è perché aumentando di 20 aumenterà di pochissimo le performance ovviamente ma comunque se è andato tutto a buon fine potete continuare a procedere sempre aumentando di 20 e magari uno anche su questo questo non toccate niente però se non si rischia di far danni a caso a questo punto fate applica di nuovo e riprovate quei bench marchi di nuovo arrivati ad alzare tipo così 120 e qua sarete tipo non so così a questo punto le cose si complicano un po dovete aumentare di 10 alla volta così e questo una volta arrivato a 100 lasciatelo stare che non serve più niente in pratica a questo punto applicate rifate il bench perché se tutto va bene ok arriverete a un certo punto se tutto va bene che non vi lascia più aumentare ovviamente questo potete aumentarlo ancora ma è sconsigliato perché non serve a niente come ho già detto quindi a questo punto dovete andare su impostazioni e smontare questo e fare applica ok come avete notato diciamo il range di miglioramento è aumentato notevolmente a questo punto si comincia a fare sul serio praticamente aumentiamo sempre di 10 questo lasciamo stare per ora e rifacciamo il benchmark almeno due volte questa volta stanno attenti ovviamente a non vedere non so qualche errore durante l'esecuzione che si spegne o non cioè non per forza si deve spegnere potrebbero essere anche degli errori visivamente così e allora non bisogna più continuare in questo caso comunque arrivati a un certo limite io adesso ero arrivato fino non mi ricordo mi sembra avevo aumentato fino a 200 ed era ancora stabile ma dipende dalla scheda video potevo andare anche oltre mi sa comunque arrivati a un certo punto per forza di cose il benchmark va non finisce correttamente o si blocca o ci sono degli errori a questo punto arriva la parte fondamentale si può scegliere se terminare il benchmark ritornare alla versione stabile cioè se avete aumentato di 10 e non era stato più stabile tornate indietro di 10 riprovate se diventa stabile ok altrimenti bisognerebbe aumentare il voltaggio però questa è una cosa abbastanza rischiosa e non è una cosa sicura diciamo però il metodo sarebbe questo aumentare appena appena così 10 non di più anche meno se si potrebbe vediamo diamo su impostazioni sicuramente si può aumentare di meno eccolo qua mettiamo 5 così vediamo qua ecco così è già meglio anche meno se volete per essere sicuri e riprovare il benchmark se funziona tutto a posto allora si può riprendere alzare questo e comunque sempre diciamo un po non sempre va bene diciamo bisogna trovare anche magari sempre più giù più corretto ma aumentare un po meno questo forse un po di più bisogna trovare l'equilibrio diciamo per essere sicuri ovviamente questo deve essere aumentato più lentamente possibile se vi sembra di aumentarlo un po troppo e non è ancora stabile vuol dire che non ce la fa e allora bisogna tornare indietro diciamo un punto stabile allora si torna indietro con questo questo è il procedimento detto semplicemente diciamo il rischio è su questo sul vantaggio perché sugli altri non c'è molto rischio al massimo vedete che non sta funzionando bene ripristinate come era prima e non si rischia niente comunque comunque questo è il procedimento quello che anche ho fatto io per per cliccare appunto ma è stata solo una prova per vedere se riuscivo e avevo trovato un metodo va valido e devo dire che l'ho trovato e ho aumentato leggermente anche questo e ho aumentato più o meno tutti i valori come avevo fatto fino adesso e ho trovato una situazione stabile comunque ma preferisco visto che non ho la necessità di aumentare le prestazioni così tanto perché per i giochi che devo giocare io non ho bisogno diciamo almeno per ora quindi riesco a tenere tutto di base comunque per maggiori informazioni come avevo già detto all'inizio descrizione troverete dei link spero che vi sia stato utile anche per chi non ho trovati tanti di tutorial quindi non so penso sia uno dei pochi tutorial boh non so di tenuto voi magari e comunque niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao